Grazie veramente, diciamo che vogliamo concludere in bellezza, concludiamo in bellezza chiaramente sempre con un qualche cosa che ha creato ad hoc per la serata Maria Alberta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se stiamo insieme durerà, non fuggirà, il tempo qui si temerà, tutto resterà splendido così, solo per noi, per noi, per noi. Grazie. Grazie a tutti.